Allora adesso sentiamo Grazia Francescato, dopo Grazia parlerà l'Anfanco Turchi. Grazie. Vi ricordate tutti credo Moretti in Palombella Rossa. Mi pare che avesse rivolto un'impolorazione a un tale Eradalema, non ricordo, mi pare fosse Eradalema chiedendogli per favore fai qualcosa di sinistra, di qualcosa di sinistra. Stiamo ancora aspettando che la faccia ne dicano qualcosa di sinistra, ma nel frattempo noi siamo qui per dire, per fare e per essere qualcosa di sinistra e una sinistra all'altezza delle sfide del terzo millennio. E la prima cosa che diciamo noi come ecologisti è che Sinistra Libertà vuole continuare, deve continuare e continuerà. Ma siccome questo è il momento della verità e quindi dobbiamo fare piazza pulita degli infingimenti, delle ambiguità, dobbiamo anche sapere che le scansioni, i tempi dei soggetti che compongono sinistra e libertà sono diversi e vanno rispettati. Noi verdi che siamo qui non siamo proprietari del nostro partito, rappresentiamo un'istanza, una prospettiva, un orizzonte e faremo una battaglia politica perché il numero maggiore di verdi si convinca che questa è la strada da prendere. Ma abbiamo un congresso a ottobre e come giusto che sia sarà il nostro congresso a scegliere in maniera democratica, ampia, aperta la strada da percorrere. Noi faremo di tutto perché questa sia la strada. Dicevo una sinistra all'altezza delle sfide del terzo millennio, per vincere le sfide prima di tutto bisogna conoscerle e riconoscerle. E la sfida ecologista che noi rappresentiamo è stata a lungo eresia. Parola che a me piace, mi va bene perché eresia vuol dire scelta, una scelta contro l'ortodossia. E mi preoccupa che oggi il matrimonio tra economia ed ecologia stia diventando forse troppo ortodossia. Perché quando sento Emma Marcegaglia, l'ho sentita a un seminario dell'Aspinistito della settimana scorsa, dire che va benissimo l'economia verde e la via d'uscita dalla crisi, io sono da un lato contenta e dall'altro mi preoccupo moltissimo. Quando sento Lord Stern, capo degli economisti mondiali, dire che l'opzione, la lotta contro il cambiamento climatico va fatta perché comporterebbe un costo maggiore l'inazione rispetto all'azione? Io sono molto contenta ma mi preoccupo moltissimo. Perché se la radicalità della sfida ecologista viene ridotta a un nuovo filone di business, a un nuovo filone che è la green economy, noi perderemo la capacità della critica di fondo che quella ha la insostenibilità dello sviluppo. Perché non ci può essere una crescita illimitata su un pianeta che ha risorse limitate. E questo è il fondamento del nostro ecologismo. Questa è la nostra eresia e di questo noi siamo fieri. Allora noi chiediamo niente poco di meno che, non dire qualcosa di sinistra, una rivoluzione. Perché la riconversione ecologica dell'economia è la rivoluzione verde, è già in cammino nel pianeta. Perché l'unica capace di fare una cosa sì davvero rivoluzionaria, nella sinistra, che è quella di mettere finalmente insieme le ragioni del lavoro e le ragioni dell'ambiente, che a lungo sono state presentate, a volte anche strumentalmente, ma a volte era così, come conflittuali, come in contraddizioni. Basta, quando sono stata adesso recentemente a Taranto, voi tutti sapete che a Taranto c'è il 93% della diossina prodotta in Europa dalla fabbrica dell'Ilva. Perché dobbiamo condannare le persone a scegliere tra un lavoro che le fa morire e la disoccupazione? Noi non vogliamo soltanto il lavoro, noi vogliamo il buon lavoro! Un lavoro che sia buono per l'ambiente, che sia buono per madre terra, che sia buono per il benvivere delle persone. Questo è il nostro obiettivo e questo è un obiettivo rivoluzionario, lo dobbiamo dire con estrema chiarezza e dobbiamo saperlo. Quindi noi non vogliamo un ecologismo che sia un capitolo aggiuntivo di un programma, sia pure molto bello. Noi vogliamo un ecologismo che sia la chiave di lettura della società del terzo millennio, del progetto politico che noi portiamo per cercare di risolvere i problemi del terzo millennio. Su questo faremo battaglia, faremo una battaglia politica perché, fatemelo dire, la sinistra è stata a lungo daltonica su questo tema. Non l'ha proprio visto il verde! Allora non so se qui c'è una persona che tutti noi amiamo molto che Giovanni Berlinguer, ma 40 anni fa quando io ero iscritto al PC, Aldo Tortorella se lo ricorda, cercavamo un po' ingenuamente di far penetrare semi-clandestinamente questa questione, erano i tempi di Barry Common che veniva a parlare a Montalto di Castro e non ci siamo riusciti. Forse i tempi non erano maturi, ma come sarebbe stata diversa, come sarebbe stato diverso il cammino della sinistra italiana se questa grande sfida ecologista fosse stata compresa, intesa fin da allora in tutta la sua complessità, in tutta la sua forza. Ma l'importante è che ora questo accada, che la sinistra non sia più daltonica, che il colore verde non sia visto come un'aggiunta, ma come il colore della rivoluzione del presente e del futuro, perché questo è. Naturalmente noi non ci limitiamo a essere con forte intento, con forte convinzione sul terreno dell'ecologia e del matrimonio tra economia ed ecologia. Noi verdi siamo presenti sui temi della laicità che ormai, guardate, è in estinzione più del panda, dichiararsi laici oggi è quasi una sfida all'ortodossia. Sui temi dei dritti, su questo non mi dilungo, sui temi dello sgretolamento della democrazia, che vanno mano nella mano, lì è ragione Monio Vadia, con l'impoverimento etico e culturale che è il problema numero uno del nostro paese, perché noi non andremo da nessuna parte se non ci sarà un grande salto di qualità della coscienza collettiva. E questo non sta avvenendo, sta avvenendo il contrario. Qualche giorno fa stavo rileggendo un libro molto bello che forse qualcuno di voi ha letto, di Enzo Striano, che si chiama Il resto di niente, ed è il racconto della rivoluzione napoletana del 1799. E leggendolo sembrava di capire che il tipo di rapporto che il re Borbona aveva con la plebe napoletana in fondo non è molto diverso dal tipo di rapporto che il potente di turno vedi di Berlusconi ha con un popolo che in ogni modo cercano di ridurre a plebe, perché il problema dell'Italia non è Berlusconi, è il berlusconismo che a me ha contagiato non soltanto il centrodestra ma anche qualche settore del centrosinistra che a volte assomiglia pericolosamente al centrodestra. E allora su questo noi dobbiamo lavorare, per far fare questo salto di qualità alla coscienza collettiva e fare in modo che ci sia un popolo di cittadini e non una plebe passiva. E qui fatemi dire da donna, anzi da antica femminista, perché io sono stata tra le fondatrici di F nel secolo scorso, nel millennio scorso, nel 73, e ho seguito con silenzioso avvilimento il passaggio di tanta parte delle donne dalle pari opportunità al pari opportunismo. E credo che questo silenzioso avvilimento sia nell'anima di tante di voi. Siamo state zitte fino adesso e andava anche bene, perché durante la campagna elettorale qualunque cosa avessimo detto sarebbe stata strumentalizzata. Ma adesso basta, adesso noi donne di sinistra libertà dobbiamo tornare a parlare su questi temi, perché è chiaro che noi non abbiamo niente contro le veline singole, ma abbiamo, spero, moltissimo contro il velinismo, contro il fatto che sta passando attraverso i media una cultura per cui una qualunque ragazza, la qualunque Noemi di turno, può pensare che andare al Parlamento europeo sia più o meno fare la stessa cosa che fare una fiction televisiva, che quanto di più diseducativo noi possiamo passare come modello ai nostri figli e ai nostri nipoti. Noi dobbiamo riprendere in mano quella capacità di analisi che era del femminismo, ovviamente aggiornandola, rendendola capace di accettare le sfide del terzo millennio. Perché guardate, i giornali spesso si sbagliano quando scrivono che il femminismo diceva che il privato è pubblico, mai detto una cavolata del genere. Noi dicevamo che il privato è politico, che dentro la vita di ciascuna di noi, donne ma anche uomini, vale anche per gli uomini, il modo di vivere la maternità, il rapporto con l'uomo, con i figli, era segnato ovviamente dal clima politico, dallo stato della società, dallo zeitgeist, dallo spirito dei tempi. Questo dobbiamo essere in grado di riprendere. Perché c'è anche una verità scomoda da dire, che è quella che diceva Jean-Paul Sartre nel frontespizzo del libro di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, e diceva, le donne, due punti, a metà vittime, a metà complici. Noi, care compagne, abbiamo esplorato molto bene la prima metà, dobbiamo esplorare la seconda, che è la parte oscura, la parte difficile. Anche questo fa parte del recupero della coscienza collettiva, del salto di qualità della coscienza. Vi ringrazio, avanti tutta e speriamo che questo non sia soltanto l'inizio del cammino. Grazie. Grazie.